Buonasera carissimi, sono Leonardo Di Pedro, l'aspirante attore pisano, la disposta pisana di Mario Di Caprio e proprio per questo che il mio manager, per vedere di piazzarmi in un film importante, mi ha portato la scorsa settimana in una villa di Cecchigori e mi ha detto si va a cena da Cecchigori e vedrà che ti piazza, ti dà un ruolo importante in un film, sì che se era lì io tutto emozionato, tutto emozionato, ci hanno portato da mangiare di tutto, mentre se era lì che si mangiava, si parlava del film e di cosa potevo fare, eravamo io, il manager Cecchigori, poi c'era il cane di Cecchigori, un bel pastore tedesco che girava lì per la sala, c'era il maggior domo, la cameriera, tutti che ci servivano, un bell'ambiente, perché Cecchigori nonostante tutto è sempre una certa persona, mentre se era lì che se non avevi si vedeva emozionato, mi è gonfiata la pancia, sento io voglio dare domani, e a un certo punto, a un certo punto, orretto, orretto, un certo punto... mi sono, mi ha guardato bene! un certo punto... 19 Państwo, Cecchigori, Lessi, stai attento al cane tu! meno male, pensa che sia al cane, meno male, pensa che sia al cane, è andata bene, vai, meno male... il tempo, 5 minuti, mi rigonfia, mi rigonfio, io li che tenevo tutti i mori, dicevo sì, Cecchigori, voglio fare il film, lo voglio fare, voglio fare, gonfia, gonfia, gonfia! Stai attento Dice Cecchigori Se dice Cecchigori Mi dica che parte non di fare Sono disposto a fare tutto E mi rigompe Mi rigompe Si Cecchigori Certo C'è Stai attento Se non ti leghi dalla sedia dietro il signore Alla fine te la fa addosso Che figlio del genere Alla fine parte di O Vottima la bella parte di